Quella non è la prima volta che la vedo, anzi direi che la seconda però stavolta l'hai accoppiata ad un altro elettrodomestico. Che cos'è che hai in mente Pierpaolo? L'ho accoppiata ad un altro elettrodomestico dandogli una commutazione automatica quindi un timer di accensione e spegnimento e voglio farmi anche preparare il caffè dalla Fritz DECT 210. Bene, vedremo se ti riesce questa magia. Posizioniamo le nostre tazzine, andiamo in studio a parlare di smart home e poi ci berremo un caffè. Perfetto, andiamo! Benvenuti e ben ritrovati al Fritz Talk. Sono Pierpaolo Gelmi. Sono Alessandro Guardini. E oggi, Alessandro, andremo a parlare di smart home. Anzi, andremo a riparlare perché abbiamo già fatto un episodio del Fritz Talk dedicato alla smart home, però entreremo un po' più nel dettaglio, giusto? Sì, l'ultima volta abbiamo semplicemente configurato il nostro bel barbecue in quel di Milano con la Fritz DECT 210. Siamo arrivati, avevamo la nostra bella salamella già pronta, ma questa volta andiamo ad approfondire. Abbiamo già iniziato a parlarne con la puntata dedicata al Fritz 750. però oggi andiamo proprio ad addentrarci in tutte quelle che sono le nuove possibilità che la nuova versione del software va a dare. Esatto, esatto. Abbiamo tre grosse novità da mostrare riguardanti ovviamente la smart home e riguardanti il sistema operativo. Come dicevi, avevamo già accennato un qualcosa in merito alle novità sulla puntata della 750, però ricordati queste parole importanti, ovvero modelli, scenari e routine, perché oggi andremo nel dettaglio di queste tre novità riguardanti la smart home. Memorizzate, a questo punto direi di partire da modelli. Potremmo andare a dare un'occhiata sulla loro configurazione, sulle loro funzionalità? Assolutamente, entriamo nell'interfaccia utente del Fritzbox e vediamo come configurare un modello. Andiamo. Ed eccoci all'interno dell'interfaccia utente del Fritzbox. Innanzitutto, Alessandro, definiamo che cos'è un modello. I modelli della nostra smart home ci permettono praticamente di salvare impostazioni individuali che si possono poi successivamente applicare, se necessario, ai dispositivi e ai gruppi che abbiamo all'interno della nostra rete locale. Il tutto con un semplice clic dall'interfaccia utente del Fritzbox, oppure anche dalla nostra smart home app, scaricabile su qualsiasi smartphone e tablet. Un esempio potrebbe essere il far cambiare lo stato ad una Fritz DECT 500 o a una nostra presa intelligente come la Fritz DECT 210. Per creare un modello devo andare in smart home, far clic su automazione e far clic su creare scenario e modello e selezionare ovviamente il modello. Fare clic su avanti e a questo punto posso scegliere se creare un modello dedicato alle mie prese intelligenti o lampadine, oppure a funzioni comfort che comprendono funzioni come attivazione e spegnimento da wifi, oppure far partire una chiamata o un messaggio tramite Fritz Phone connessi all'interno della rete locale, eccetera. Per creare i modelli consoni alle automazioni che ho in mente per farci preparare il nostro caffè e addirittura farci avvisare quando è pronto, devo creare due modelli. Il primo è scegliere funzioni comfort, ovvero il nostro Fritz Phone ci avviserà con un messaggio vocale quando il caffè sarà pronto. Quindi da questo menu scelgo avvio di una chiamata e vado poi a selezionare chiamata interna. Faccio clic su avanti e qui posso scegliere quali telefoni connessi utilizzare. Selezioniamo tutti i telefoni connessi con una chiamata collettiva e qui andiamo ad inserire il messaggio da mostrare o da ascoltare quando sarà pronto il nostro caffè. Quindi il caffè è pronto. Assegniamo un nome a questo modello e facciamo clic su fine. Voglio creare anche Alessandro un altro modello che questa volta è connesso a una nostra lampadina intelligente, ovvero la Fritz DECT 500. Ritorno su Scenari modelli, faccio gli stessi passaggi di prima, ma questa volta vado a selezionare la nostra lampadina smart. Configuriamo un nuovo modello assegnandogli ovviamente un altro nome, quindi Alert Caffè per esempio. E andiamo ad impostare il nostro nuovo modello, ovvero scegliamo di attivare la commutazione della nostra lampadina non appena il modello viene innescato e scegliamo anche di che colore deve essere la DECT 500 non appena viene richiamato questo determinato modello. Scegliamo il rosso. Facciamo clic su applica e il nostro secondo modello è correttamente creato. Bene però Paolo, quindi con i modelli possiamo andare a personalizzare la smart home ed il Fritz OS per adattarsi alle nostre esigenze e andare ad arricchire ulteriormente quella che è la nostra esperienza con la domotica. Ma ritorno alle parole che mi hai fatto memorizzare, avevamo i modelli, ora abbiamo gli scenari. Come si configurano e a cosa possono essere utili se hai un esempio o qualcos'altro? Certo, gli scenari sono fondamentali per creare alcuni scenari sia già predefiniti che personalizzarli in base alle proprie esigenze e consentono proprio di gestire tanti modelli assieme in un unico scenario. Andiamo a vedere nell'interfaccia utente del Fritzbox come fare. Gli scenari Alessandro sono personalizzabili in base alle proprie esigenze. Cambiando tra l'altro ed inserendo in un singolo scenario tutti o alcuni dei modelli che mi sono precedentemente creato. Sempre facendo clic su automazione, facendo clic su scenari e modelli, questa volta fleghiamo la voce scenario predefinito o individuale. Facciamo clic su avanti e come vediamo il Fritzbox ci mette a disposizione due scenari predefiniti come il rientro a casa e l'uscita da casa. Dove ad esempio quando rientro a casa con un clic posso creare uno scenario di accensione delle lampadine, dell'attivazione del wifi e del wifi ospite e anche disattivazione di quella che può essere la segreteria telefonica. Viceversa ovviamente quando esco da casa. Oppure posso creare un mio scenario inserendo i modelli che mi sono appena creato. Nel nostro caso andremo quindi a crearci uno scenario caffè dove andremo ad unire i due modelli di prima e che quindi si attiveranno in simultanea non appena uno scenario verrà attivato. Facciamo clic su fine e il nostro scenario personalizzato è stato correttamente creato. E poi gli scenari sono veramente versatili per Paolo perché se immagino ad esempio di ritornare a casa e di volere un set di luci particolari sia nel loro colore che nell'intensità, con questa funzione posso andare a ricreare quel tipo di ambientazione che più mi si confà e al contempo potrei anche utilizzarla, non lo so, per regolare quelli che sono i cicli della mia lavatrice una volta connessa, gestirla tramite l'interfaccia del FrizzOS e la presa DECT collegata. Corretto. Ed ora però abbiamo un'altra parola nella lista di quelle che dovevo memorizzare che dobbiamo ancora andare a discutere, ossia quella delle routine. Esatto, la terza parola magica, routine. Andiamo insieme nell'interfaccia utente del Frizzbox e vediamo a cosa serve questa parola magica. L'ultima parola chiave è routine. Le routine sono molto utili e personalizzabili, ovviamente in base alle proprie esigenze. Con le routine si possono automatizzare quelli che sono gli scenari, i modelli e i dispositivi legando il tutto a quella che è una condizione if-then. Ovvero se ad esempio il vattaggio misurato dalla nostra FrizzDECT 210 raggiunge quello che è un determinato valore che ovviamente ho stabilito io quando creo questa determinata regola, if-then, viene quindi applicato lo scenario o modello precedentemente impostato da me come d'azione a questa condizione che si è andata a creare. Facciamo un esempio pratico, Alessandro, legato ovviamente sempre alla nostra preparazione del caffè. Facciamo clic su routine e nominiamola. Facciamo clic su avanti e in questo menu andiamo a scegliere il dispositivo trigger dell'azione, ovvero la nostra FrizzDECT 210 che è collegata alla macchinetta del caffè. Facciamo clic su avanti e qua andiamo a specificare quale cambiamento di stato o quale vento del dispositivo precedentemente selezionato deve essere soddisfatto se lo stato di commutazione cambia, quindi cambia il nostro stato di commutazione, oppure se dovesse cambiare la potenza misurata dalla DECT 210. Scegliamo stato di commutazione in ON, infatti tra l'altro la nostra macchinetta del caffè ha già un timer di accensione programmato sempre all'interno della DECT 210 e quindi prima o poi si accenderà. Facciamo clic su avanti e selezioniamo l'azione da effettuare non appena ci sarà questo cambio di stato, ovvero il nostro scenario caffè che precedentemente abbiamo creato. Facciamo clic su avanti e ora il Fritzbox mi riepiloga la mia routine. Se è tutto corretto faccio clic su fine e adesso la mia routine è correttamente creata, quindi non ci resta che aspettare e vedremo cosa succede. Quindi abbiamo visto la teoria sul nostro Fritz OS, ma quando è che arriviamo alla parte pratica? Il nostro caffè è pronto. Perfetto. Ce lo ricorda direttamente il Fritz OS e il Fritzbox con la routine che abbiamo appena creato. Benissimo, andiamo a prendercelo? Andiamo. Andiamo. La routine ha funzionato come promesso Pierpaolo, le istruzioni sono state anche semplici da seguire, quindi penso che anche chi ci ascolta potrà provare a fare altrettanto. Potrà crearsi la sua routine. Bene, fantastico. Non ci resta che ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, seguirci ai prossimi Fritz Talk e che dire, alla prossima. Ciao. Ciao.